Grazie a tutti. Il pavimento sta andando bene, peccato che manca del pavimento. Franco finirà di stuccare, dopo di che daremo la mano di vernice, dopo iniziamo ad arredare, a installare la cabina. Domani ho già visto che è tutto bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Calibro è un'azienda giovane che si posta come obiettivo di rimanere al primo posto a livello qualitativo, d'immagine, nel campo delle cabine doccia. Si è puntato su alcune caratteristiche, tra le quali la più importante è sicuramente l'acciaio inossidabile. Noi abbiamo visto che una cabina deve essere oltre che bella, oltre che funzionale, deve durare nel tempo, deve essere anche facile da installare. Quindi deve avere tante cose che devono confluire nell'unico prodotto. Tutto parte dalla progettazione, tutto parte dall'idea. Sempre rimanendo però su un design di altissimo livello. I prodotti Calibre nascono insieme, collaborazione di designer e soprattutto la parte tecnica di Luca che è l'ideatore dell'Arbatex Move e anche di altre cabine meno note. Però insomma nasce soprattutto da un lavoro di keep all'interno dell'azienda. Noi facciamo delle cabine in acciaio, in cristallo da 8 mm, molto resistenti, che in teoria possono durare una vita, 30, 40, 50 anni, perché sono materiali eterni. Non c'è nulla a livello mondiale come questo, è l'unica cabina doccia che si apre elettronicamente. Arbatex è una cabina che esiste anche nella versione manuale. A questa cabina con apertura manuale è venuta l'idea di abbinare un'apertura elettronica. Se noi pensiamo alle porte degli ascensori, alle porte degli uffici, agli azze cristalli elettrici, ai portoni dei garage, ormai si apre tutto elettronicamente. La comunicazione di calibre per questo progetto è stata pensata appunto per far vedere la rivoluzione che questa doccia rappresenta. E quindi abbiamo pensato di girare uno spot video che potesse appunto far vedere bene qual è la comodità di questa nuova cabina. Calibre è l'azienda all'avanguardia per la solidità, la qualità e l'estetica del prodotto nel settore delle cabine doccia. Calibre produce le cabine doccia che i titolari di Calibre vorrebbero mettersi in casa. Grazie. Grazie. No, 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 no.